La digitalizzazione nel largo consumo è un elemento strategico per la crescita efficiente del comparto. In questo ambito l'EDI, ovvero lo scambio elettronico dei dati nel ciclo dell'ordine tra industria e distribuzione, si rivela uno strumento chiave per accelerare il processo. Nel 2022 l'analisi annuale realizzata da GS1 Italy in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano segnala un incremento nel suo utilizzo, anche se sussistono ancora resistenze a una larga diffusione. Il monitoraggio di quest'anno relativo ai dati del 2022 conferma un consolidamento della discreta diffusione dello standard EDI nel settore del largo consumo. In realtà c'è ancora un potenziale inespresso che non viene ancora colto, ma alcuni segnali di incremento dei volumi si registrano. Stando ai dati emersi dal monitoraggio dell'uso delle EDI nel largo consumo in Italia, lo scorso anno le aziende che hanno effettuato uno scambio elettronico di dati secondo gli standard GS1 sono aumentate del 5,5% a 7.885. Complessivamente parliamo di quasi 62 milioni di messaggi scambiati, un incremento costante soprattutto per quelle realtà che ne fanno un uso strategico. In questo panorama un segnale da cogliere riguarda la tipologia dei documenti scambiati che rispetto al passato si è spinta oltre i semplici ordini e fattura. Un incremento importante si registra anche per quello che riguarda la conferma d'ordine che è un altro messaggio complementare ai processi di natura commerciale. Un segnale importante sul quale appunto vorremmo lavorare e dobbiamo lavorare per cercare di ampliare ulteriormente questo incremento riguardo i messaggi che afferiscono alla sfera logistica. In quest'ultimo caso parliamo dell'avviso di consegne a ricevimento, documenti chiave per accrescere l'efficienza nei processi logistici che, come il Covid ha insegnato, sono un passaggio sensibile per la filiera del largo consumo. Dietro questi segnali di crescita tuttavia ci sono soprattutto i retailer. Rispetto all'anno precedente il numero dei messaggi inviati è aumentato del 27%, mentre quelli ricevuti sono saliti dell'8%. La distribuzione, cioè la domanda, ha un ruolo trainante, importante perché semplicemente riguarda la relazione che hanno con una moltitudine di fornitori, dematerializzare tutti gli scambi tra un distributore e la moltitudine di fornitori che ha è strategico, è fondamentale. L'EDI costituisce uno strumento indispensabile per migliorare l'efficienza delle relazioni e accrescere la sostenibilità dei processi nel largo consumo, che ancora mostra resistenze rispetto a un'adozione su larga scala. Le barriere sono per lo più di natura culturale, è più un problema di mindset e di approccio a queste tecnologie, a questi strumenti per portare efficienza nei processi. Il salto che va fatto è un salto esclusivamente di natura culturale per estendere e ampliare la platea degli utilizzatori di questi strumenti. Per questo G-Swan Italy sta continuando a investire in questa direzione, mettendo a disposizione strumenti come Euritmo, una soluzione web EDI, pensata soprattutto per le PMI.